buonasera feltri lei ha dichiarato che napoli e la sua città preferita è una sorpresa perché beh insomma da lei io sono di bergamo appunto no vivo a milano dopo essere stato a napoli per un po si ci ha lasciato un pezzo di cuore a vede si intendo letteralmente perché nella folla qualcuno si è scippato scippato un ventricolo no 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 guardi era partito bene poi per favore ma che per favore ma che partito verità ho capito mi stupirei del contrario si è uno che dei colori del napoli sì io napoli la adoro la mia città preferita addirittura è perché mi hanno accettato ed accolto nonostante io avessi l'attitudine a lavorare no sentano ma perché deve sempre tanto io la era praticamente come bel zebu in un convento ma non è vero guardi sono tanti napoletani che lavora ero rispettoso non mi facevo vedere cosa che io lavoravo fino alle due del pomeriggio ah cioè poco prima che tutti si svegliassero ma non è vero e riprendevo alle 16 quando loro si riaddormentavano fino al giorno dopo senta allora sorvoliamo facciamo così cambiamo discorso parliamo invece della brexit perché ora pare che sempre più inglesi siano un po delusi da quella scelta ma ecco dopo sette anni ci sono arrivati e capisco il pentimento tant'è che se ora gli inglesi volessero rientrare nell'unione europea sì io sarei il primo ad aprire le loro braccia e dirgli amorevolmente andate tutti a farvi foto inglesi del menga ma no ma perché ma non dica così cioè capisco che uno possa ragione no ragione riconosco anch'io i miei errori perché non ho tradotto in inglese fuck off english of menga ma menga resta uguale perché è irregolare mamma mia niente anche la brexit è nata allora per favore cambiamo di nuovo argomento ma no 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 invece non cambiamo proprio un bel niente perché gli inglesi con la brexit hanno fatto una minchiata sesquipedale ed ora se la tengono non è che se tu vai a trombare con un trans poi ti puoi lamentare che ti brucia al culo no ma cosa dice ma la prendo è saggezza popolare ma che saggezza popolare è una cosa ignobile non si dicono popolare la saggezza adesso però immagino che la wonderland si farà intenerire perché il bangla primo ministro inglese che hanno loro si presenta col suo mazzo di rose tieni rosa regalo regalo io mangiare parte che il miliardario non farebbe mai ma poi non si dice se ne stiano a casa loro questi bacchettoni dei britanni infatti mica vengono da lei che adesso vogliono anche stravolgere i gialli di Agata Cristi ho letto cancellando parole come negro ebreo ho letto anche il nome di Poirot Hercule diventa Erlato B ma no questo si può ma che discorsi sono ma no sono discorsi che gli inglesi in Europa non ce li vogliono soprattutto ora che hanno fatto vilipendio alla nostra bandiera ma cosa? vale a dire il musical su Berlusconi scusi ma Berlusconi non è la bandiera no la bandiera no però si è sempre considerato l'asta ah vabbè ma dai ma la può ma può evitare una volta di dire ma io dico inglesi i musicals fateli sui vostri dirincoglioniti ma vabbè ma li fanno visto che avete Carlo che va in giro con quel Carlo allegorico che chiama moglie allora è anche il re la bian tocca facciamo così se deve insultare in questo parliamo d'altro eh ha visto che i tedeschi hanno bandito i nostri biocarburanti per le fuel vabbè parliamo di quei cagacrauti dei tedeschi ma perchè ma allora riusciamo una quella loro lingua che quando ti dicono ti amo ti viene ad alzare le mani e a renderti al rai no 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 ma perchè? ma no sarebbe il caso di chiamare una task force di muratori bergamaschi per rialzare il muro in 448 ma stavolta però tutto intorno ai confini cru guardi non se ne esce dobbiamo ricambiare argomento a sto punto parliamo dei francesi che non vogliono andare in pensione a 64 anni ma rimanere a quota 62 parliamo di sti cazzo di francesi no senza dire però ecco no vogliono andare tutti in pensione presto analizziamo perchè prendo un esempio della moglie di Macron no ma dai che è andata in pensione nel 1789 ma ci riusciamo a non farci infatti oggi lei non fa una mazza di niente a parte dare la pappa a suo marito sul seggiolone allora senta facendo col cucchiaino eh arriva arriva l'aeroplane manche 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 ma facciamo c***o dobbiamo cambiare argomento cambiamo argomento basta ma basta lo dico io due ore che mi rompe le balle cambiamo argomento cambiamo argomento sembra la berlinguer a carta bianca cosa c'è che non riesce più a muovere la bocca tanta bombata di botox no no allora no no sta veramente passando il segno ma io starò passando il segno ma la berlinguer di segni in viso non ne ha manco più uno ma cosa c'è cosa ce ne frega è bianca è liscia è un lavabo no allora no ma perché si rende conto di cosa sta dicendo ma no sta dicendo che la berlinguer è di sinistra quindi ma ha abbiurato il suo credo ma quale che dovrebbe essere fatto di contenuti non di estetica ma sono cose vecchie ha abbiurato la sciatteria comunista ma certo fatta di poncio di pelo di capra andina degli intilimani ma non è più necessario la berlinguer dovrebbe andare in giro con i capelli grigi crespi ma no con le borse sotto gli occhi ma no così calanti ma no che le fungono anche da tette la smetta la smetta e col baffetto di peluria lasciato allo stato brado tipo la schlai così tiriamo dentro anche la schlai lei sì che è coerente perché si vede che abborrisce la ceretta infatti ai peli delle gambe che le spuntano fuori dai gin lasciamo stare la schlai salutiamola mentre la berlinguer si è dursizzata ma c'ha delle luci usando 500 kg di luce appuntata solo che la dursa usa corrente di un privato mentre la berlinguer su rai 3 usa i soldi del canone ma cosa c'è? pertanto è come se si attaccasse al nostro contatore con tanti saluti a risparmio energetico ma che conti fa? ma chi senti? ma no ma che cazzo di conti fa lei? lei non li fa io li faccio l'unica cosa che le donne di sinistra tipo la berlinguer la gruber la parietti la ferili a loro modo danno una mano all'ambiente ah e in che senso scusi? beh perché inglobando la plastica sulla faccia non lo fanno andare in mare